Molise in zona arancione, manca l'ufficialità, sembra quasi certo il passaggio di colore dopo l'andamento degli ultimi giorni, agenzie e siti nazionali lo danno per certo, non c'è ancora il decreto. I nuovi posti letto sono quelli del Gemelli, troppo urgente la necessità di averli subito disponibili, Giustini sospende il Dietri e sceglie la struttura di Tappino Florenzano al Veneziale per verificare le condizioni dell'ospedale di Isernia. Da domani partono i vaccini, agli ultraottantenni in due giorni saranno somministrate 1500 dosi in 12 postazioni, sono 13.000 le prenotazioni, intanto quasi 1500 le risposte al bando per 63 assunzioni tra medici e infermieri. Esce in TV l'ultimo lavoro di Flavio Bucci ad un anno dalla scomparsa dell'attore molisano su Sky, il film Il Grande Passo, l'addio alle scene dell'attore originario di Casa Calenda. Mario Russo, presidente dell'Agnone, cambio al vertice della società, lascia trotta e subentra il giovane agnonese. Campobasso il riscatto domenica passa dalla gara contro l'Aprilia. Edizione delle 14, ben ritrovati con la nostra informazione, quindi lo avete sentito dai titoli, non è ancora ufficiale il passaggio del Molise a zona arancione, le agenzie ADN Cronos e dire lo danno per certo, come molti altri siti, alcuni dei quali anche molto vicini al Ministero della Salute. Intanto preoccupa l'impennata dei contagi in basso Molise e gli ospedali pieni, nonché l'RT del Molise è diventato il più alto d'Italia. Sentiamo Giovanni Di Tota. Una macchia rossa lungo la costa, da Pescara a Campomarino e poi il colore arancione che rimette insieme, come quasi 60 anni fa, gli Abruzzi e il Molise. Manca ancora l'ufficialità, ma agenzie e siti specializzati danno per certo il passaggio anche di Emilia Romagna e Campania. Passano Rosse, Umbria e provincia di Bolzano. In Molise è il risultato di un'impennata di casi che non accenna a diminuire, facendo schizzare l'ormai famoso indice RT, ma è anche probabilmente lo scenario che si sta delineando negli ospedali molisani, da qualche giorno talmente pieni che molti pazienti cominciano ad essere rimandati indietro. E' di questa mattina la notizia di una ragazza di 20 anni in gravi condizioni che con altre persone sarebbe stata trasferita da Termoli al Gemelli. La conseguenza più immediata è che gli spostamenti tra i comuni sono vietati, stretta anche sulle attività commerciali e i pubblici esercizi. Resta il divieto di consumare all'interno cibi e bevande anche a pranzo e è permesso invece l'asporto dalle 18 e consentito fino alle 22 solo nei locali con cucine. Per le scuole dell'infanzia, elementari e medie, la didattica resta in presenza, limitazioni alle superiori con alternanza al 50 fino al 75% delle presenze. Intanto il bollettino di ieri ha registrato altri 5 decessi, tra cui un giovane meccanico di Guglionesi di 38 anni e l'ex presidente del Termoli e del Petacciato Calcio. 114 nuovi casi su 835 tamponi per un rapporto percentuale del 13,6% contro meno del 5% a livello nazionale. Il colpo di scena nella notte sui nuovi posti letto destinati al trattamento del coronavirus. Stop al Vietri di Larino, via libera 20 unità attivate al Gemelli. Giustini firma un provvedimento d'urgenza. Le reazioni della politica tutti d'accordo. Greco chiede le dimissioni di Florenzano Scafarto e la certificazione del fallimento addetto. Al Gemelli sono già arrivati i primi ricoverati. Sentiamo Pasquale Di Bello. È stata una drammatica telefonata dei vertici ASREM al presidente della regione a determinare una repentina inversione di marcia sulla soluzione Vietri e a riaprire l'opzione Gemelli come centro destinato a fornire i nuovi posti di terapia subintensiva per il trattamento del covid-19. Dal direttore generale dell'ASREM Florenzano e da quello sanitario Scafarto, l'appello a Toma ad intervenire nella sua veste di autorità di protezione civile di fronte alla necessità di procedere al ricovero urgente di nuovi pazienti e all'assenza di posti disponibili. L'appello ha fatto scattare l'immediata convocazione del tavolo di crisi, questa volta in forma ridotta, al quale hanno partecipato, oltre al presidente della regione, anche il commissario Giustini, il subcommissario Grossi, i responsabili di Neuromed e Gemelli. La soluzione d'urgenza individuata è stata quella di affrontare l'emergenza attraverso l'ospedale Gemelli, soprattutto in considerazione della vicinanza con il Cardarelli e la possibilità di accedere al trattamento di terapia intensiva. Per il Vietri la procedura è stata al momento sospesa. Davanti al cambio dello scenario non si sono fatti attendere le reazioni della politica, bene affrontare l'urgenza col Gemelli, ma quanto accaduto è la certificazione del fallimento in corso, ha detto Andrea Greco, che chiede le dimissioni di Florenzano e Scafarto. Quello che è accaduto in queste ore certifica il fallimento della dirigenza sanitaria dell'ASREM. Il Vietri può essere il nostro centro covid di riferimento, quindi hanno perso un anno di tempo. Ha perso un anno, hanno perso un anno tutti coloro i quali si sono schierati contro l'idea del Vietri centro covid. Oggi chiaramente la situazione è emergenziale, quindi nel mentre viene allestito il Vietri bisogna trovare immediatamente un'altra soluzione perché non abbiamo proprio più posti letto in Regione Molise e siamo costretti a mandare i nostri concittadini fuori Regione. È una situazione veramente delirante e chiunque è responsabile di quello che sta accadendo si deve dimettere a mio avviso immediatamente. Parlo di Florenzano, parlo della Scafarto, parlo di tutti coloro i quali a mio avviso hanno giocato un ruolo determinante nel bloccare l'opzione Vietri centro covid. Anche da altri settori della politica si sono fatte sentire voci a commento dell'accaduto. Bene l'utilizzo della cattolica, dice l'ex governatore Iorio, secondo il quale la straordinaria emergenza necessita di provvedimenti urgenti quali essi siano. Detto questo, l'esponente di Fratelli d'Italia aggiunge, resta imperativo l'impegno verso la struttura dell'ospedale covid a Larino. Positivo il commento anche del consigliere segretario regionale del Partito Democratico Facciolla. Ora abbiamo bisogno di rianimatori, dice. Superata l'emergenza di terapia intensiva, torniamo a Larino. Assunta la decisione, la struttura del Gemelli è diventata immediatamente operativa con i primi ricoveri in corso sotto la direzione del Gemelli. Ad operare in questa fase sarà il personale messo a disposizione dal Neuromed. Ed ora ci colleghiamo con l'ospedale di Isernia dove si trova Enzo Di Gaetano insieme alla direttore generale dell'ASRE, Moreste Florenzano, andato a verificare la situazione di collasso denunciata da Lucio Pastore proprio ieri a Telemolise. Enzo, se ci senti, a te. Enzo. Ciao Marta, siamo qui all'ospedale veneziale di Isernia con il direttore generale dell'ASRE, Florenzano, a cui subito facciamo la domanda canonica, la domanda dell'ultimo minuto. Insomma, stanotte un nuovo ribaltone. Florenzano, che sta succedendo? Allora, noi sono circa 15 giorni che abbiamo segnalato una maggiore pressione al commissario Giustini sulle strutture sanitarie. Ricordo che era stato declinato un piano dallo stesso commissario che prevedeva il coinvolgimento delle strutture private in fase 4. In risposta a questo nostro grido di dolore il commissario Giustini in un primo momento mi ha chiesto se ero disponibile ad accettare la nomina come commissario straordinario per l'emergenza. Io ho detto di sì, so che poi il ministero ha detto che non rientra ovviamente nei poteri di Giustini questo tipo di nomina, ma io comunque ero a disposizione perché è importante trovare una soluzione in tempi rapidi. Era stata trovata una prima soluzione con l'ausilio di una struttura privata, dopodiché il commissario Giustini ha ritenuto di pensare all'ipotesi di Larino sempre con l'ausilio di una azienda privata. Noi non ci siamo opposti, ci siamo mossi nella direzione del decreto 14 che ha emesso il commissario. Nel mentre facevamo queste operazioni, quindi operazioni per vedere come acquisire questo personale della struttura privata, le attrezzature e quant'altro, nella serata di ieri abbiamo avuto una recrudescenza della pressione sulle strutture ospedaliere. Quindi il Presidente Toma ha convocato un'unità di crisi nella quale è emersa questa situazione ed è emersa nel contempo la disponibilità del Gemelli. Il Gemelli è una struttura del Gemelli con l'ausilio di Neuromed, il Gemelli è una struttura adiacente a Campobasso, a Cardarelli, quindi diciamo che è una soluzione ottimale perché è un ospedale, è un ospedale con terapie intensive in adiacenza a un altro ospedale degno di questo nome ed è soprattutto una situazione immediatamente attuabile. Quindi in unità di crisi il Commissario Giustini ha dato il via libero, ha sospeso quello che era il decreto 14 e ci ha dato direttive per agire sul Gemelli. Già stamattina si sta predisponendo il tutto. Ma è tramontata del tutto l'ipotesi dietro, direttore o no? La disposizione del Generale Giustini parla di sospensione, quindi non credo sia tramontata. Direttore, la domanda del giorno è anche un'altra, ma com'è possibile che con i numeri che date voi dell'ASREM, che non sono a pieno regime. Nonostante questo ci sia... Non è così. Bisogna fare chiarezza. I posti di terapia intensiva che vengono monitorati dal Ministero sono il totale dei posti di terapia intensiva, non solo quelli Covid, perché la preoccupazione di tutti è dare assistenza di terapia intensiva alle persone, non solo quelle Covid, ma anche quelle che per accidente o per necessità devono andare in terapia intensiva. Quindi sul totale dei posti di terapia intensiva abbiamo una determinata situazione. Poi ci sono i posti di terapia intensiva dedicati al Covid. Su questi posti, quando c'è una pressione esagerata, come nel caso attuale, interviene la CROSS. La CROSS è un sistema nazionale del quale noi siamo stati parte attivi. In fase 1 abbiamo ospitato noi, persone provenienti da altre regioni. Siccome viviamo in Italia, è una nazione importante, abbiamo la collaborazione delle altre regioni. Quindi non c'è niente di irregolare sulla gestione dei numeri. È semplicemente che è un po' complicato da capire che i numeri vengono calcolati sul totale delle terapie intensive, ma non perché lo decidiamo noi, perché queste sono le disposizioni. Ultimissima domanda, diventiamo arancioni oggi? Questo non glielo so dire. Noi non facciamo queste valutazioni. Noi trasmettiamo i dati al Ministero. Il Ministero sui 21 indicatori si determinano per decidere il colore delle regioni. Sa che qui hanno chiesto il blocco dei ricoveri al Veneziale? Sì, io sono qui al Veneziale proprio per dare la mia vicinanza a tutti gli operatori che sono da dieci mesi, come anche il sottoscritto, scusatemi se lo dico, in trincea. In trincea, a combattere ogni giorno, ad affrontare una situazione mai vista prima e però con abnegazione e forza ce la facciamo. Marta, se non hai altre domande... Un invito urgente a tutta la cittadinanza a mantenere i comportamenti corretti, perché leggo purtroppo che ci addebitano questa situazione. Io non l'addebito a nessuno, ma il contagio provoca questa situazione. Più contatti ci sono, più comportamenti scorretti ci sono, più aumenta la pressione sugli ospedali. Quindi la prima difesa è mantenere le distanze. Marta, se non hai altre domande, ti restituisco la linea. Ok, grazie Enzo. Torniamo in studio. Lo dicevamo, zona arancione c'è l'ufficialità, il Molise è zona arancione. Il ministro Speranza l'ho appena comunicato al presidente Toma. Toma, andiamo avanti. Non accendano a diminuire i contagi a Termoli. Nonostante la zona rossa, il virus corre veloce, corre nelle famiglie. In meno di 20 giorni ci sono stati 250 nuovi casi. Intanto al Santimotio la situazione resta difficile. Emanuele Aiori. A quasi due settimane dalla dichiarazione della zona rossa a Termoli il numero dei casi non rallenta. Solo dai primi di febbraio a oggi ci sono stati 250 nuovi contagi e al momento le persone positive in città sono salite a 320. La variante inglese del virus corre veloce e corre soprattutto nelle famiglie. Si scopre un caso e dopo pochi giorni tutti i componenti del nucleo familiare contraggono il Covid. Le misure di contenimento adottate non stanno dando ancora gli effetti sperati. Considerando che gli spostamenti sono consentiti, quasi tutte le attività sono aperte e si va regolarmente al lavoro. Solo le scuole sono chiuse. E' per questo che tra i sindaci del Basso Molise si fa sempre più strada la consapevolezza che solo un lockdown duro, con la chiusura anche delle fabbriche, anche solo per due settimane, possa essere l'unica possibilità di frenare il virus. La sensazione diffusa è che la situazione stia ormai precipitando, con la rete di assistenza sanitaria completamente in tilt. Una sola unità di medici usca per tutto il Basso Molise è totalmente insufficiente. Quella promessa dieci giorni fa per Campomarino non è mai stata attivata, così comeppure non si sono avute più notizie sul Covid hotel. I medici di base non riescono più a curare i pazienti a casa e a volte quando si arriva in ospedale le condizioni sono già compromesse. L'ospedale di Termoli, unico baluardo della sanità pubblica per un territorio di 100.000 utenti al collasso. Neanche l'ampliamento dell'area grigia al quarto piano è servito. I posti letto si stanno riempiendo, ma non ci sono medici e non ci sono infermieri sufficienti ad assistere tutti. Una guerra che si combatte ogni giorno, ma senza armi, contro un virus che lascia frustrati e impotenti anche gli stessi medici. E in questa emergenza anche l'opposizione si fa sentire. È duro il circolo del PD di Termoli, che parla di diritto alla salute calpestato da parte di chi governa a livello regionale, che sta mostrando incapacità nel gestire l'emergenza. Ma nel mirino finisce anche il sindaco di Termoli, Francesco Roberti, che invece di minacciare denunce alla procura, secondo il PD, dovrebbe agire e trovare soluzioni per l'emergenza in corso. L'opposizione chiede anche che fine abbia fatto l'annunciato screening che si sta effettuando invece in tutti gli altri comuni. Come annunciato dall'ASREM, è partita la piattaforma sorveglianza integrata Covid, accedendo alla quale in maniera diretta anche i sindaci possono prendere visione della situazione e dei casi di positività accertati nel proprio territorio. La praticità del nuovo sistema, dichiarato il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, al momento non ha comportato purtroppo una migliore qualità dei dati, che non sono del tutto aggiornati. Addirittura, rispetto all'ultimo bollettino del 17 febbraio, che ci è stato inviato via e-mail, ricompaiono nuovamente tra i positivi persone risultate positive il 14 novembre e che non erano più presenti perché divenute negative. Secondo quanto riporta Gravina, in città ad oggi ci dovrebbero essere 124 positivi. Ascoltavano musica in una soffitta di un palazzo del centro di Campobasso e senza mascherina. Cinque ragazzi sono stati per questo motivo sanzionati dalla polizia della locale Questura. Gli agenti, nell'ambito dei servizi di controllo del territorio per verificare il rispetto delle misure anti-Covid, sono stati attirati dalla musica ad alto volume proveniente dall'edificio. Individuata la soffitta, i poliziotti hanno sorpreso i cinque ragazzi non conviventi, tutti senza mascherina. I giovanissimi sono stati multati e tre di loro minorenni affidati ai genitori. Da domani al via le vaccinazioni in Molise per gli over 80. Individuati i punti per le somministrazioni che andranno avanti anche nei prossimi giorni. Tra domani e dopodomani, 1500 le dosi da somministrare. Tonino Danese. Parte domani la campagna vaccinale anti-Covid per gli ultraottantenni che si sono registrati sulla piattaforma ASREM. È stato stilato un primo programma in aggiornamento continuo ufficializzato dall'azienda sanitaria regionale che riguarda questo fine settimana. Vaccinazione che continuerà ovviamente, è stato sottolineato anche nei giorni successivi. Secondo la tabella diffusa dall'ASREM, 8 i punti vaccini dove domani sabato 20 febbraio avverrà la somministrazione agli anziani prenotati di 1.038 dosi di Pfizer così suddivise. 180 a Campobasso, 138 a Termoli e 120 le dosi rispettivamente a Boiano, Riccia, Isernia, Venafro, Larino e Santa Croce di Magliano. Domenica 21 febbraio saranno somministrate altre 480 dosi di Pfizer suddivise in modo uguale. 120 per ciascun comune rispettivamente a Trivento, Frosolone, Montenero di Bisaccia e Agnone. In due giorni dunque 1.500 vaccinazioni circa. Oggi sono continuate le somministrazioni di AstraZeneca, psicologi, ostetriche e farmacisti under 55. Si tratta di 450 dosi ripartite equamente. Sono 150 rispettivamente distribuite nei punti ospedalieri di Campobasso, Termoli e Isernia. L'azienda sanitaria fa sapere di avere contatti continui con i sindaci per garantire spazi sicuri e ampi per le operazioni, ad esempio a Campobasso il Pala Unimol. La raccomandazione è evitare assolutamente gli assembramenti. Chi si dovrà vaccinare sarà chiamato sui contatti indicati al momento della prenotazione e gli verranno indicati luogo, data e ora della somministrazione. Si procederà come stabilito in ordine di età, dal più anziano al meno anziano. Le vaccinazioni saranno assicurate da una squadra composta da medico, due infermieri, un operatore sociosanitario e un amministrativo. Dopo la somministrazione l'anziano resterà in osservazione per 10 minuti. Le prenotazioni sulla piattaforma sono aperte per consentire a tutti di accedere, senza dimenticare ovviamente di garantire il sostegno anche a chi ha difficoltà. Sono circa 13.000 al momento gli over 80 che si sono prenotati, di cui 9.900 più o meno in grado di raggiungere i punti di vaccinazione o esservi accompagnati. All'incirca 3.000 invece le persone che avranno bisogno di ricevere le dosi di vaccino a domicilio, per le quali ci saranno apposite squadre di sanitari. 4.000 invece gli anziani delle case di riposo già vaccinati. Sono 1.447 le candidature pervenute al Dipartimento della Protezione Civile attraverso il form aperto per l'individuazione di 63 professionisti sanitari da impiegare per l'attuazione delle misure necessarie al contenimento e contrasto dell'emergenza coronavirus a supporto della Regione Molise. nel dettaglio si sono candidati 11 medici, 2 specializzati in anestesia e rianimazione, 1 in medicina interna, 8 con altre specializzazioni, 144 infermieri e 1.292 operatori sociosanitari. Il Dipartimento provvederà a redigere un elenco che sarà trasmesso alla Regione che dopo la verifica dei requisiti provvederà al conferimento degli incarichi. Alla luce dei contagi in Basso Molise, l'azienda Fruttagel ha donato 13.000 euro per sostenere le attività di screening gratuito della popolazione dei comuni di Larino, San Martino in Pensilis e Ururi. La donazione è ripartita tra i comuni citati in relazione alla dimensione e al numero di dipendenti Fruttagel residenti. Tutto quello che c'è da sapere sul vaccino anti-covid è stato spiegato durante una conferenza online organizzata dal Rotary Club di Isernia, un tema di grande attualità che desta non poche preoccupazioni. Sentiamo Barbara Fino. Il vaccino anti-covid istruzioni per l'uso è il titolo dell'iniziativa informativa e di sensibilizzazione promossa dal Rotary Club di Isernia attraverso una conferenza online svolta in diretta streaming e che ha ottenuto una notevole partecipazione di curiosi e interessati perché il tema dei vaccini oggi è di primaria importanza e di grande attualità per la lotta alla pandemia e per poter intraprendere un cammino di speranza e di ripresa economica e sociale. In apertura i saluti di Massimiliano Belfonte, presidente del Rotary Club di Isernia. Abbiamo ritenuto utile organizzare questo momento di approfondimento, certamente per l'attualità del tema, ma soprattutto per il fatto che sul nostro territorio non c'è ancora stato un approfondimento su questo tema che sappiamo tutti essere molto caro. Tra gli interventi nel corso della conferenza, quello di Silvio Garofalo, direttore dei laboratori analisi del Molise, e di Giancarlo Ripabelli, coordinatore del Comitato Scientifico per l'emergenza Covid-19 Molise, che ha affrontato il tema dei vaccini rispondendo ai tanti dubbi che suscitano preoccupazione tra la popolazione. Tra i tanti, se i vaccini sono stati fatti troppo in fretta o se avranno effetti collaterali. I vaccini sono assolutamente sicuri e questo è uno studio del 2016 che ha mostrato come su oltre 25 milioni di dosi di vaccino inoculate ci sono state solamente 33 casi di anafilassi, cioè una reazione grave allergica che può porre anche in pericolo la vita del vaccinato, che però può essere gestita efficacemente dalle strutture sanitarie. Il professor Ripabelli risponde anche ai tanti che cercano chiarimenti riguardo la campagna vaccinale in atto in Molise. In Molise sono più alte le coperture, soprattutto nelle fasce d'età più avanzate. Noi abbiamo vaccinato quasi tutte le RSA, meno, un po' inferiori queste coperture nei soggetti più giovani, ma questo ovviamente è ascrivibile alla composizione, anche forse al numero, di operatori sanitari, perché sapete che nella prima fase abbiamo vaccinato gli operatori sanitari, poi le RSA, adesso partiremo con gli over 80, dopodiché andremo avanti con le categorie che hanno determinate patologie. I dubbi maggiori infine sorgono sull'attuale colorazione della regione, che attualmente resta gialla, ma considerando la crescita esponenziale dei contagi, ci si chiede il motivo per cui non si è diventata arancione o addirittura rossa. Perché l'RT è uno dei 21 indicatori che vengono resi in considerazione per definire il profilo di rischio. Altri indicatori importanti sono l'incidenza, cioè il numero di nuovi casi, ma c'è anche la resilienza del servizio del sistema sanitario, oltre che la capacità di fare tamponi, la capacità di fare contact tracing. Quindi l'incrocio di questi 21 indicatori porta a definire un profilo di rischio che colloca la regione in una zona piuttosto che in un'altra. Il personale della squadra mobile di Campobasso ha dato esecuzione alla misura cautelare in carcere a carico di un trentenne indiziato di ripetuti e gravi maltrattamenti in famiglia. Il provvedimento è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari al Tribunale di Campobasso, Roberta Donofrio, su richiesta della Procura. Il trentenne, secondo le indagini della squadra mobile, coordinate dalla Procura stessa, perpetrava danni, maltrattamenti, vessazioni e violenze ai danni della moglie e dei figli minori. L'intervento dei poliziotti ha messo fine all'incubo della famiglia dell'accusato e grazie al centro antiviolenza e ai servizi sociali la moglie e i figli minori sono stati portati in un luogo protetto. Ed ora ci occupiamo di una vicenda che aveva riempito le cronache degli anni 80. Due giorni fa è morto Raffaele Cutolo, fondatore e capo della nuova Camorra organizzata. A Campobasso subì un processo perché è ritenuto il mandante di un omicidio avvenuto nel carcere di Via Cavour. Sentiamo. Dai suoi fedelissimi era chiamato Vangelo. In carcere gli avevano affibbiato il soprannome o professore perché era l'unico che sapeva leggere e scrivere. Negli anni 80 la storia di Raffaele Cutolo si è intrecciata con Campobasso nel carcere di Via Cavour. In quegli anni avevano soggiornato nomi altisonanti della criminalità da Renato Vallanzasca a Gianni Melluso, affiliati di clan, di mafia e di Camorra. Il primo settembre dell'81 un detenuto, Franco Diana, fu ucciso con 33 coltellate. Secondo l'accusa il mandante dell'omicidio sarebbe stato Don Raffaele, fondatore della nuova Camorra organizzata, prima struttura piramidale in Campania, al cui vertice c'era proprio il professore Di Ottaviano. A indicare Cutolo come regista del delitto nel penitenziario di Campobasso il superpentito Pasquale Barra, detto o animale, lo stesso che aveva accusato il presentatore Enzo Tortora di spacciare droga nel mondo dello spettacolo per conto della Camorra. Questo l'articolo con cui la stampa, il 29 giugno dell'84, aveva trattato il processo in corso nel tribunale di Via Lelena, in prima pagina. L'allora procuratore Laviani aveva chiesto l'ergastolo per Cutolo e per gli altri esecutori materiali dell'assassinio quattro giorni dopo, ma a sorpresa i giurati della Corte d'Appello di Campobasso giudicarono insufficienti le prove raccolte contro il capo della NCO e il tribunale, allora con il vecchio rito, lo assolse. Uno dei primi processi mediatici, quello di Cutolo a Campobasso, seguito in diretta anche da Radio Radicale. Radio Radicale, quest'oggi vi presenterà un documento di eccezionale importanza. L'udienza di ieri a Campobasso, alla Corte di Assise, al processo che vede come maggiore imputato Raffaele Cutolo, accusato dell'uccisione del camorrista Diana. Una figura enigmatica, quella di Cutolo, di cui perfino De Andrè parla nella famosa canzone Don Raffae cantata insieme a Roberto Murolo. Così aveva risposto da dietro le sbarre in tribunale di Viale Elena a un giornalista. Quando si arriva la soggenda della verità, vedete, ma non si può arrivare, sapete perché? Non ce la prendono mai. Con la gente che dovrebbe, questo, di scangerare d'Italia. Ce la prendo sempre con i piccoli. Era malato da tempo, ancora detenuto nel regime duro del 41 bis e morto a 79 anni, lasciando dietro di sé una lunga scia di sangue e centinaia di omicidi, uno dei quali, quello che si è consumato dietro le sbarre di Via Cavour a Campobasso, non ha ancora un colpevole certo. Un commerciante di auto usate e un corriere sono stati segnalati dai carabinieri di Mirabello per sottrazione di beni sottoposti a sequestro. Uno dei due era stato nominato custode giudiziale di una Fiat Panda sequestrata nel maggio del 2019 dai carabinieri, poiché circolava senza assicurazione. I carabinieri hanno poi verificato che il veicolo era stato venduto dal commerciante di auto ad una ignara signora, residente in un paese della provincia di Campobasso. I due sono stati pertanto deferiti in stato di libertà alla Procura per reato di sottrazione di cose sottoposte a sequestro disposto da autorità amministrativa. Un anno fa ci lasciava Flavio Bucci, il grande attore molisano, protagonista di tanti film che hanno fatto la storia del cinema italiano proprio ad un anno dalla sua scomparsa, arriva in tv il suo ultimo lavoro. È il film Il Grande Passo, girato poco prima della morte e uscito postumo, un commovente addio alle scene. Sentiamo Enzo Luong. Ragazzi, come va? Cosa state combinando? Ad un anno dalla sua morte questa è la sua eredità artistica. È arrivato in questi giorni in tv su Sky dove è attualmente in programmazione l'ultimo film di Flavio Bucci, l'ultimo lavoro del grande attore molisano scomparso un anno fa. Il Grande Passo è un bel film che praticamente debutta direttamente in televisione, considerato che è uscito al cinema alla fine della scorsa estate, nei pochi giorni durante i quali le sale sono rimaste aperte, prima della nuova e lunghissima serrata dovuta al Covid. Per chi ha amato Flavio Bucci è un capitolo fondamentale perché la partecipazione straordinaria dell'attore è di una tenerezza astruggente. Il regista Antonio Padovan sembra proprio avergli voluto cucire addosso la parte di un padre che altro non è poi che un suo cameo. Bucci nel film è un uomo piegato dalla vita, ricorda da vicino la parabola della sua esistenza, lo sguardo sofferente, non riesce neanche ad abbracciare i figli interpretati da Giuseppe Battistonna e Stefano Fresi che da lontano sono venuti a trovarlo, quasi non riesce a parlare davanti a loro che di fatto sono stati abbandonati. È la sua ultima inquadratura, un'immagine commovente, un addio alle scene che colpisce ancora di più per chi arriva al pubblico dopo la sua scomparsa. Nella vita a volte si fanno degli errori, errori grossi, insomma, ecco. Poi uno deve lasciarsi alle spalle, è tutto inevitabile, si trovi incostretto, insomma, un giorno lo capirete anche voi, insomma, ecco. Emergenza Covid, come gestirla? Quale futuro? Questo è il tema della trasmissione in grasso libero di stasera. Nella prima parte con diversi ospiti si parlerà degli argomenti e degli sviluppi delle ultime ore legati all'emergenza Covid. Nella seconda parte della trasmissione focus sulle difficoltà che stanno vivendo gli operatori economici di diversi settori, dal turismo alla ristorazione dagli eventi culturali e di spettacolo al comparto degli operatori che lavorano nell'indotto dei matrimoni e cerimonie. In studio a condurre ci sarà Piacentino Salati, appuntamento quindi questa sera alle 21. Prima di concludere vi ricordiamo la notizia che abbiamo dato a metà del nostro telegiornale, è arrivata all'ufficialità, il Molise è zona arancione da lunedì. Il ministro Speranza lo ha comunicato a Toma e il presidente Toma ha deciso che partirà da lunedì la zona arancione. Questa è l'ultima notizia del nostro telegiornale, ora lasciamo la linea allo sport. Grazie per l'attenzione a tutti voi, buon pomeriggio.